Ciao! Questa è la recensione di una lampada frontale per il trail running che sto utilizzando attualmente. Abbiamo tre variazioni di potenza. La prima è così, ti dura 130 ore e hai 6 lumen. La seconda, 1, 2, abbiamo 100 lumen e ti dura 8 ore. Alla sua massima potenza, vogliamo dire dunque a 450 lumen. 1, 2, 3. Ti dura due ore. Allora, questa lampada frontale l'ho provata. Qua vedete alcune informazioni. Bene. E qua potete vederne delle altre. Allora, che dire? È una lampada che ho utilizzato sotto la pioggia, nel freddo. La lampada si è bagnata completamente per un'ora e 45 minuti ha tenuto l'acqua. Dunque, è una lampada frontale impermeabile. Abbiamo la possibilità di inclinarla. Ecco, vedete. Ed è una buona cosa, perché a dipendenza di dove vogliamo portare il fascio della luce, andiamo a inclinarla. È una lampada frontale di medio costo, tra i 60 e i 100 euro. Ok? Sta bene in testa. Come vedete c'è qui. Potete allargarla come volete. La potete portare anche sopra il vostro berretto o la vostra giacca impermeabile. E diciamo che alla seconda, alla sua frequenza media, quella che vi dura otto ore, avete già una buona visione. Per invece i momenti di forte pioggia, di acquazioni e di nebbia allo stesso tempo, siete veramente forzati a metterla su 450 lumen e lì vi durerà due ore. Per il resto, potete andare tranquilli, c'è una riserva di otto ore nella sua frequenza potenza media. Molto interessante, questa lampada può essere ricaricata, c'è dunque una batteria ricaricabile all'interno. In alternanza, in alternativa, puoi anche mettere delle batterie, delle piccole batterie, quattro batterie. Allora, mi sembra una lampada molto buona, piuttosto leggera e che offre, lo ripeto, due modi per ricaricarla. Puoi ricaricarla col cavo USB oppure ci metti delle batterie direttamente. Ed è questa una buona cosa quando sei in giro e che non hai ricarica batterie. Haug, spero che sono stato utile con questa recensione, ti saluto e ti dico alla prossima. Metti like se ti è piaciuto, fatti una risata ancora adesso e iscriviti al mio canale, il canale di Olivia e Mark 4.